che tipo di piano? dai vai tutto qui all'ultimo guarda cosa ti va bene bravissimi eh 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 bravo ma non mi parte piano attacca a scena attacca bravo bravo l'hovo 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 ok bravo bravo down travi bravo 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 hur va up tut ah ah no 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 si ma la luce ma l'ho fatto il cutter ha ahahah